ci siamo! tocca a te, shon! che succede? un terremoto? cosa sta succedendo? chi è stato? signor sindaco? ma che sta facendo? questa casa sta per essere demolita a causa delle bollette non pagate! fermo! state esagerando non dovrebbe iniziare prima del 14 sai contare sei licenziato e faresti meglio a pagare le bollette torno tra una settimana dove troviamo 10.000 dollari in una settimana! tu cos'hai shon? io ho una tasca vuota! io ho 10 dollari caramelle e un fermaglio! cosa? shon! hai speso i nostri ultimi soldi per una pizza! pizza? è perfetta! sei un genio shon! apriremo una pizzeria e guadagneremo 10.000 dollari! siamo salvi! phil! stai bene? ascolta il mio piano pizza! fantastico! andiamo! trasformiamo il nostro rimorchio in un camion della pizza! ecco il cartello! più luce! fermo! pronto shon! pronto phil! la pizzeria è aperta! questa è zu pizza! sto congelando! voglio ordinare una pizza! ok! ecco a te! wow! grazie! questa è la soluzione giusta! una coperta di pizza! cosa vorreste? una pizza molto romantica per anime gemelle? dite addio, idioti della pizza! oh! ma che succede? questa è la nostra esperienza molto romantica! solo un secondo! fai una pizza! ma come faccio senza corrente? oh! proverò a usare una candela! buona fortuna! ci vorrà un secolo! devo pensare a qualcos'altro! che cosa ho qui? pizza molto piccante? cosa è successo qui? wow! shon! sei un genio! la porto ai clienti! ok! basta piccantezza! ecco la pizza per appuntamenti! 2 pizza! come posso aiutarti? vorrei una pizza con formaggio puzzolente! formaggio puzzolente? formaggio puzzolente! formaggio puzzolente! ma certo! dai shon! sei coraggioso! eccolo! vieni fuori puzzone! è il tuo momento! vai phil! chiudi shon! ce l'abbiamo fatta! che schifo! una pizza con formaggio puzzolente! grazie ragazzi! che profumo! volete una fetta? no? no 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 no! niente cibo in sala! va bene! ma non lasciamo! non lascerò la mia pizza! ciao! è pizza quella? non toccare! è la mia gonna! adoro la pizza! aspetta! non è gratis! devi pagare in anticipo, scroccone! oh! ehi! ti si è rotta la bici! possiamo ripararla se vuoi! pizza bike! grazie ragazzi della pizza! buona fortuna! nila! fermati! ciao! torniamo al lavoro! pronto? 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 vorrei ordinare una pizza grande! certo! ecco la tua pizza! oh oh! un, due, tre! stella! grazie per la consegna! che è successo alla pizza? non importa! mi sto guardando! una fetta per favore! ci pensiamo noi, signorina! ci pensiamo noi, signorina! John! abbiamo il nostro primo ordine! finalmente! devo stendere la pasta! ma con cosa? con una palla da bowling! ottima idea! sono un genio! e adesso? la salsa! mi serve una siringa grande? ecco fatto! il pomodoro si è ristretto! ora tocca a te, salame! ho bisogno di fette sottili e uniformi! mmm! formaggio! mmm! vieni qui, coltellino! il mio metodo di famiglia per grattugiare il formaggio! uno, due, tre! cia cia cia! fatto! ecco a te! la tua fetta personale! oh wow! tanto cielo! è perfetta! ne voglio ancora! spenderò tutto quello che ho! pizza! di più! ciao! torna presto! ma ninaldo! questa è una rapina! dammi i soldi, pizzaiolo! cos'è questo profumo incredibile? pizza? deliziosa! ho cambiato idea! non ho bisogno di soldi! dammi tutta la tua pizza! ora! fai schifo! ehi! scrivi qui sotto qual è il tuo tipo di pizza preferito! ciao ragazzi! abbiamo sentito che fate le migliori pizze della città! vi copro io! mmm! oh! eccola! la loro fantastica pizza! che buon profumo! mmm! oh! pessima idea! addio pizza! frullati! niente pizza! niente clienti! niente soldi! la pizza è pronta! oh no! ma dov'è? è scappata! cosa? pizza? perché sei nel frullatore? niente di grave! mi è venuta un'idea! mmm! frullato di pizza! mmm! frullato di pizza! ragazzi! ho qualcosa di speciale per voi! pizza da bere! adoro questo frullato di pizza! voi ragazzi fate la pizza migliore! mmm! ma cos'era quello? diecimila! ce l'abbiamo fatta! oh no! troppo tardi! non riavrete mai la vostra casa! la distruggerò! attento Sean! non distruggere... tutto! Sean! di nuovo? ecco il suo hot dog signore! spendere i nostri ultimi soldi in hot dog! si! hot dog! nuovo locale di hot dog! benvenuti nel nostro mondo degli hot dog! premiere della salsiccia! siamo aperti! chi ne vuole uno? io ne prendo due! questa è la guerra degli hot dog! il miglior hot dog per te signorina! oh mio dio! ti ho aspettato da una vita! amore a prima vista! e che gusto! sposerei sicuramente questo hot dog! ce l'abbiamo fatta! ce l'abbiamo fatta! batti il cinque fratello! ciao tesoro! non ti dimenticherò mai! l'ho finito! posso averne un altro? signore vuole un delizioso hot dog! è praticamente fresco! sono a posto! come vuoi? ai! ozze! non sono stata io! ma che fa? signore posso aiutarla? cosa c'è che non va nel suo braccio? ma che fai? non toccare! dobbiamo fargli una cura d'emergenza a base di hot dog! gesso hot dog! è elegante e pratico! una stretta di mano? ciao ragazzi! vogliamo i migliori hot dog della città! no! vogliamo che i nostri hot dog si abbinino ai nostri vestiti! aspettate! chiediamo alla mamma! hot dog colorati? la mamma è al lavoro! impastiamo la pasta! i tuorli vanno nel latte! guarda il burro ama così tanto gli hot dog che si è sciolto! nevica farina! aggiungiamo del colorante alimentare all'universo dell'hot dog! arriva l'impasto per i più morbidi e brillanti panini per hot dog! andiamo in forno e voilà! hot dog colorati esclusivi sono per voi! gli hot dog sono i migliori accessori per i vostri vestiti! un hot dog colorato è la tendenza più in voga! ok! signorino! preparerò il miglior hot dog per lei! guarda si abbina ai vestiti! non mangio carbone! ma sei pazza! ordinerò un hot dog dai tuoi rivali! Lucy è matta! ha bruciato un hot dog! un hot dog per favore! il nostro miglior hot dog per i nostri migliori ospiti! bene! li saboterò con un enorme mosca! disinfestazione! ho trovato una mosca nel mio hot dog! cos'è successo? guardi! un hot dog con una mosca! sta violando le norme sanitarie! ciao ragazzi! wow! il mio hot dog perfetto è pronto! spiderman! sei il mio super eroe preferito! posso fare una foto? grazie ragazzi! i vostri clienti sono fantastici! oh! è la mia mosca! Lucy! sei stata tu! è la tua immaginazione! signorina! signorina! chi mi chiama? oh! sei tu! ciao! posso avere un hot dog? certo! sono tre dollari! ne ho solo due! beh! ecco il tuo hot dog da due dollari! che schifo! povera bimba! ho un'idea! un hot dog dolce? facile! burro d'arachidi come salsa! una barretta di cioccolato come salsiccia e la fragola come ketchup! e il tocco finale! una caramella in cima! una decorazione dolce è d'obbligo! questo dolce hot dog è pronto per la sua padroncina affamata! piccola! vieni qui! ecco un dolce hot dog speciale per te! wow! questo è l'hot dog dei miei sogni! addio pasticcio mezzo mangiato! Lucy! abbiamo vinto questo round! il mio hot dog! ehi! che cos'è? terzo livello di protezione per le salsicce! non vai lontano ladro di hot dog! è tutta colpa tua! ciao! voglio un hot dog! ehm... mamma! ci penso io! wow! gli hot dog lego sono il più alto livello di arte degli hot dog! è geniale! ecco ragazzo lego! il tuo hot dog è pronto! grazie! sei il miglior chef del mondo! wow! che ne dici di mangiare degli hot dog? io li prendo qui! buon appetito! io prendo un hot dog da Lucy! ti va di giocare a badminton? il vostro volano disturba le mie vendite! dobbiamo aiutare quei ragazzi! un volano di Würstel! wow! giochiamo a badminton commestibile! siamo chiusi! che giornata fantastica! è ora di iniziare il piano di acquisizione! la salsa piccante ucciderà la vostra attività ragazzi! siamo aperti! ciao Lucy! ciao sfigati! buona giornata! ciao! vogliamo gli hot dog più caldi e piccanti? grazie! ci siamo! buon appetito! wow! wow! questi sono i migliori hot dog piccanti del mondo! li adoriamo! li adoriamo! adios amigos! il tuo hot dog! è fantastico! ma anche il mio orso vuole un hot dog! un attimo! ecco un piccolo hot dog per il tuo orsetto! ragazzi siete i migliori! ciao! vorrei un hamburger! puoi farmelo così! vendiamo solo hot dog! i soldi non sono un problema! certo! possiamo fare qualsiasi cosa! mamma! è un ordine speciale! tutto è possibile per la mamma! deve solo preparare un panino ibrido! un hamburger ha bisogno di una polpitta! proprio come un hot dog ha bisogno del wurstel! lattuga fresca e verdure! aggiungiamo il formaggio! e condimento! se un hot dog e un hamburger avessero un figlio sarebbe proprio come il nostro hamburger dog! il tuo hamburger è pronto! wow! ma è adorabile! con mille piedi! ecco il tuo hot dog! che schifo! no! voglio un rimborso! no! non se ne parla! wurstel serpente! funziona meraviglia! ho escogitato un piano geniale! wow! amore mio! io sono Sean! e siamo fatti l'uno per l'altro! puoi sposarmi? ora vi dichiaro marito e moglie! ora fai parte della famiglia! oh sì! lo stavo aspettando! sarò la proprietaria del tuo negozio di hot dog! via da qui! sono la proprietaria! addio sfigati! oh! hot dog più gustoso! cosa? ehi! indietro! di nuovo! ciao!